Il anno di maggio è un risultato diverso da ieri, ovviamente ieri avevamo vinto oggi un pareggio, però un'altra Italia e un'altra partita, anche un'altra intensità. Sì, penso che sia stata una bellissima partita, abbiamo trovato una squadra decisa che voleva vincere e penso che siano viste due squadre che hanno fatto di tutto per portare il risultato a casa. È finita pari, abbiamo fatto diversi errori tecnici e tattici, però alla fine penso che se viste una squadra con la voglia di vincere, che cerca di crescere. Poi quel che succede, succede, però alla fine è stata una buona partita per me. Il bilancio tra Finlandia e queste due partite? Io penso che sia un bilancio più che positivo, adesso dobbiamo continuare a crescere, a lavorare, penso che stiamo lavorando bene, siamo sulla strada giusta. Poi per il resto spero che Carletto non ci sia fatto niente, per il resto va tutto bene.